Domani sarà una partita molto complicata perché comunque loro sono una squadra che già qui ha fatto vedere le ottime cose, sono dei buoni tiratori, hanno tirato molte volte qui da noi, in casa hanno fatto una buona partita col Paris Saint-Germain, l'ambiente è molto caldo quindi bisogna stare attenti e soprattutto in certi momenti della partita non ripetere gli errori che abbiamo fatto fino ad ora. No, se mi hai già detto che Milik e Blavio ci sono tutti insieme lo dico che non è un'allegrata, quindi al limite farò una cosa che nessuno si immagina, però detto questo domani bisogna fare una partita di compattezza, in questo momento qui bisogna ridurre al minimo gli errori perché noi facciamo degli errori purtroppo in certi momenti della partita, è successo il quarto ora con il Maccabi, la partita di Milano è stata la farza riga della partita col Benfica in casa, nonostante che col Benfica abbiamo fatto gol, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo gol, però un minuto alla fine del primo tempo prendiamo rigore, come rientriamo in partita all'inizio del secondo tempo, facciamo dieci minuti bene e poi su un mezzo contrasto perso prendiamo il secondo gol, quindi su queste robe bisogna sicuramente lavorarci, però in questo momento qui la cosa più facile da fare, la cosa che è più redditizia è quella di avere più compattezza all'interno della partita. Il fatto che comunque c'è la possibilità, quella di domani sera, di giocare subito in un'altra partita e quindi va vista come un'opportunità per rilassarci in piedi. Le due partite avevano illuso un po' tutti, ma questo è stato un errore perché comunque non bisogna mai illudersi, bisogna vivere di realtà e di cose pratiche, quindi è un percorso che va fatto crescendo giorno dopo giorno, lavorando con passione, mettendosi sempre in discussione e avere la voglia di arrivare agli obiettivi, creare presupposti, poi se ci sono squadre più bravi di noi, più forti di noi, quello lo vedremo alla fine, però noi in campo non dobbiamo più fare errori come sono successi ripetutamente in varie partite all'inizio del campionato. Grazie. 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 Grazie.